vabbè direi che posso gettare via tutto molto interessante vediamo se si è salvato qualcuno non si è salvato nessuno come vedo ci poteva essere un vincitore ci poteva essere un vincitore a nessuno non scappa a Hitman si vediamo aici il vincitore aici è un vincitore posizione istintura mancante peccato che non c'è un vincitore c'è un vincitore non c'è un vincitore non c'è un vincitore